Un cipo commemorativo dedicato a tutto il personale sanitario dell'emergenza urgenza per la costante vicinanza e collaborazione con la città. Questo l'omaggio che la Polizia Municipale di Arezzo ha deciso di fare in occasione del 171esimo anniversario della sua fondazione. Per me l'emergenza urgenza è un servizio talmente importante, non per la Polizia Municipale, ma per tutta la città, tutti i cittadini di Arezzo, che ho ritenuto cogliere l'opportunità di dare un ringraziamento, sentite sincero a tutti quelli che lavorano per noi. In questi due anni si è lavorato insieme, diciamo, si è lavorato per farsi di superare queste emergenze, per farsi che i cittadini non si sentono soli. Un omaggio che arriva nella settimana delle celebrazioni del Trentennale del Servizio del 118, nato appunto il 27 marzo 1992, con un decreto dell'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Si festeggia il nostro Trentennale, quindi abbiamo fatto una serie di iniziative, ma questa è la Polizia Locale, è un'iniziativa che viene dal cuore, che non è preordinata eccetera, si vede proprio che questa nasce dal cuore e quindi quando ci sono queste manifestazioni di questo tipo qua, noi siamo felicissimi, ma soprattutto dobbiamo dire grazie, perché hanno messo insieme tutta la città questa manifestazione e quindi un sistema che ha dietro una città è un sistema che deve essere per forza un sistema forte.